Aaaaaaah! Oh mio dio! Olicito! Ho visto una cannonata entrare! Bel tiro! Beh sono fortissimo! S.O.O.O.O.O.O!O! Pesso bene o no? Ok buono? Nice Cado Preciso quel passo E' precisissimo anche il tiro Minchia No no ma Cioè non riesci proprio ad aprire i file Non riesci ad aprire i file Cioè non so perché ha sempre problemi Nell'aprire i file Sempre cazzo Ah non challenge Non me prego un cazzo Demo se riesco Buonissima Vediamo questo musico Aspettiamo di Che me la passo La contraria la buona Non me lo ricordo Ti dico la verità Non mi ricordo Che formato sono Non mi ricordo Bella matte Mi sembra tipo Mov può essere Non mi ricordo Mi sembra che l'applicazione del gimbal Li faccia tipo in mov Mentre quelli normali in mp4 Mi sembra ci chiami mov Ti cazzo tranquillo Nel senso si può fare il convertitore Online Che carichi Ti converte Easy bro E' una rottura di cazzo Sia per il tempo Che perché magari Ti peggiorano un attimino La qualità Buono Buono Non so perché Molti lo considerano Ah ma Ma sei così forte Mk Eh E Quale è il problema Chi è che mette In giro Vucci Che il pad Sia meglio Di Mk Cioè Una minchiata assurda Fatelo adattare A tutti i formati Merda Ho tagliato Un po' Tutto qua No Glielo messo in mezzo Sono un idiota Per fortuna fuori Buono Nice Nice Oh Oh Mio Dio Eh sì My bad Tiro Fuori Lasciamolo imbalzare Spieghiamo Io non capisco Sta gente Che va dritta Sì No Cesso Oh Un fitto Ho visto una cannonata Entrare Bel tiro Bella Seba Ma che cazzo Prendi Hai Mettiti in pigiama Ok Tutto Del mondo Vanno Cioè Vanno Proprio Prendi Cazzo Di Prendi Prendi Cazzo Prendi Cazzo Di No, che culo Ciao Buongiorno, pochetto, buongiorno Tutto bene, Edo? L'ho abbandonato in questo caso Great Pass Buongiorno a tutti, come mai, Crypto? Nada, simulazioni? Era proprio forzato Spero che allora, Vandalo, domenica Non ci siano Le riserve a giocare Perché se giocano i titolari Si guarda Mi sa che lo guarderò Dalla marda o dall'altro Nostra mi, nooo Bella Milton Perché sarà veramente Se giocano i titolari Beh, quest'anno Ma dall'altro Irving Che cazzo di problemi c'ha allora alla fine Perché ho visto che voleva Se usciva dai Nets Non giocava più a basket Cioè E sarà un coglione È un terrapiattista Non vuole vaccinati E sarà un coglione Irving Ma è molto stupido Però, cazzo Se tutti i tre sono in forma Io non vedo l'ora più che altro Sai cosa? Di rivedere Arden Perché purtroppo Diciamo che ho cominciato a seguirli A seguire i Nets Quando Arden era già Cioè Si è infortunato E tutto quanto Non ho fatto in tempo a godermeli Diciamo Il trio tutto insieme Quindi Spero durino più di metà stagione Deve ir Si si è il Just Dave È il fratello di Cameron Ah No io avevo letto che Se Mi è arrivato un messaggio Probabilmente Joe Che se L'ovessero scambiato Lui Cioè O Nets O proprio si ritira A quanti anni ha A Irving Una trentina 29 Tipo Da imbecile Tipo Uno così Con quelle mani Dammele mai Tipo Guarda che broia 32 No Mi sa che è tipo del 90 2 Una roba del genere Secondo me Prova a guardarci Cercate Kyrie Irving Kyrie Kyrie Irving Sono senza mani Che non sa giocare No Sì Pure io ero GC3 Ed ero sceso In questa live All'inizio ero Per 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 Pochissimo Che non scendevo a 1500 Guardi capire Adesso sono back on top Proprio Tempo al tempo Brandissimo Buono Kyrie Need boost No Peccato E' un pass Buca benissimo Bello il tocco Quello lì non ce l'ha Invece ce l'ha No Non Mi si è avuto un pochettino Più di booster Può si dovrebbe esponare Questa è una roba All'interno 29 Quero i 32 29 Del 92 Quindi Ho parlato Un doppio pass Un doppio step back Boh non so cosa sia Qua sarà figo Boh Arden Lo voglio vedere in stile Rockets Sarà impossibile perché c'ha Due giganti assieme in più però Perché sai è uscito anche Che stupido Arden Mattomaro È uscito anche Su NBA Fino a un mese fa non c'era L'abbonamento ad una squadra 10 euro al mese E guardi tutte le partite della tua squadra Stravesi Tutti belli Tutte belle le mie canzoni ragazzi Non sono né trash né robe strane È quasi quasi Porca trono Dai dai Ma tonno che parato Sono fortissimo Sono fortissimo Sì 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 Anche io ho un double step back Qui su Rocket Prima o poi Mica buono Sì sì da PC Da PC Infatti li guarderei solo al computer Cioè non vado in salotto Dove ho la tv Da Del diciottesimo secolo Mi sa Guarda Ci sono stanze di casa mia Che non conosco nemmeno No Esco dalla mia stanza Con la piantina In mano Eh no Ho abbandonato Dave Se hai gol È perché sono un coglione Buono Si è cagato sotto a Mark No Nice So...